Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo qui con la seconda parte di Un Tuffo nel Passato la serie in cui andiamo a rivivere le vecchie serie del passato in attesa dell'arrivo della terza guerra degli iscritti che a proposito mi piacerebbe vedere quando arriveremo a 2000 iscritti sul canale così, mi piacerebbe, mi piacerebbe, speriamo possa succedere ecco anche perché io credo tantissimo in questo progetto, tanto che sto impegnando il mio unico weekend, i miei unici giorni liberi che tra l'altro dovrò anche vedermi partite di calcio, gara di Formula 1 e tutto il tempo libero mi sono alzato alle 8 e mezza di mattina, si lo so non è tardissimo, non è un flex non mi sono alzato alle 5 come i vostri nonni e i vostri bisnonni però mi sono alzato presto per registrare una caterva di video per la prossima settimana perché con l'università non riuscirò neanche a respirare mi devo svegliare presto, devo prendere autobus, devo prendere cose quindi diciamo non riesco mai a registrare, non riuscirò mai a registrare più da qua dai lunedì ai giovedì riuscirò a registrare solo venerdì, sabato e domenica perché scuola non ce ne sta bene, continuiamo non creiamo nulla di nuovo ci eravamo lasciati allo scorso video con la Neo-Africa quindi andiamo ad un altro impero romano e qual era la sua specialità? ah già che era l'impero più grande governato da Benito Mussolini what the fuck ah ok era la... come si chiama? era la... nella Risorgitalia la serie di Risorgitalia quindi prima di tutto se volete vedere questa serie commentate con Risorgitalia prima che mi scordo come si chiama secondo perché la capitale è Istanbul volgarmente detta anzi volgarmente detta Istanbul per tutti i Costantinopoli dovrebbe essere Roma boh cose dei pazzi va bene per fare giusto qualcosina costruiamo a Siracusa perché sì l'esercito sparpagliato vabbè era sparpagliato da prima però era enorme Maria 209.000 unità di esercito chapeau ma non ci credo ragazzi potevamo reclutare davvero 12.000 unità a Lisbona cioè se ora io facessi assimila campo supporti armeria laboratorio di tutto voglio fare queste 12.159 quante possono diventare? 12.200 ragazzi qua facciamo un record secondo me 12.400 12.400 sempre dov'è qua? più festival voglio fare il possibile e l'impossibile porto officina di tutto così attenzione perché dei ribelli minacciano la stabilità dell'impero subito sedata la stabilità l'instabilità dell'impero romano di Mussolini la serie più più fascista probabilmente che abbia mai fatto perché forse effettivamente l'impero romano è ciò che voleva il Dvce il Dvce purtroppo in questa serie lo ha avuto portogallo chiede il fatto di non aggressione portogallo perché non ti fai una grandissima malata di fatti tuoi comunque siamo a 13.000 addirittura credo ci possiamo fermare qua perché sia questo è già un record clamoroso andiamo giusto ad assimilare quattro province sparse qui e là giusto per dire che gli abbiamo dato un ritocchino a questo impero necessario vi ho già detto che commento lasciare vi ho già detto che questa Germania è molto memosa perché sembra sia stata soffocata la Finlandia Polonia è troppo bella sembra il Commonwealth polacco-lituano l'Unione Sovietica con Murom in mezzo non si può vedere anche con Belosiersk e per il resto ci siamo noi che dominiamo la scena detto ciò andiamo alla prossima serie così non perdiamo tempo ed eccoci qua in un altro progettino con l'impero delle due Sicilie riunito effettivamente allora qui non ricordo moltissimo perché eravamo partiti da qualche altro posto non eravamo i primi al mondo per il semplice fatto che aspetta siamo nel settecento no siamo nel 1887 ok non eravamo primi per il semplice fatto che c'era qualcuno che era partito meglio di noi e che mi sono diventato ah gli Stati Uniti no chi è allora l'impero del Brasile è bello però chi è il primo al mondo non è la Russia non credo sia uno di questi staterelli ah ok deve essere oh mio dio la dinastia King è immensa sarebbe bello scontrarsi con la dinastia King qua comunque questa serie era bella perché un impero made in casa tutto made home made mi piaceva tanto ma qua non eravamo minimamente i primi quindi ci sarebbe tanto bel da fare volete rivedere questa serie? commentate con delle due Sicilie senza dire assolutamente altro ricordo il commento con più mi piace in questo video il commento con più mi piace dello scorso di questo tipo si scontreranno in un sondagione finale con poi il vincitore che verrà la serie vincitrice che verrà eletta come serie migliore del canale andiamo avanti e giungiamo quindi a una delle serie più folli in quanto moltiplicazione del territorio di partenza perché l'Unione Europea con i suoi vassalli mancava solo la Serbia in effetti non entrerà mai nell'Unione Europea la Serbia ma in questo scenario diciamo alternativo lo farà no la Serbia non si fa vassallizzare what? boh non lo so perché andiamo a mettere un po' di truppe qua così magari ci ripensa ma così giusto un quant'è che sono? un agglomerato ecco ah solo 41.000 truppe vabbè Serbia adesso vuoi entrare o no? la Bosnia non lo so se entrerà mai anche perché non è la Bosnia originale è una Bosnia che abbiamo plasmato noi Serbia ti mando l'ultima volta quest'ultimatum poi non ti lascerò non ti chiederò altro oh le e allora lo chiediamo anche a qualcun altro no mi sarebbe piaciuto aiutare i separatisti diciamo scozzesi ma questo è un lavoro per la prossima volta se volete vedere questa serie commentate con Unione Europea e poi vi sfido ad indovinare da dove siamo partiti per arrivare fino a qua non ve lo ricorderete probabilmente ma non ve lo dirò nemmeno io commentate con Unione Europea e lo scoprirete bene andiamo avanti oh ragazzi ho appena vissuto ho appena visto un grandissimo flashback la serie dello scorso video dello stato del regno delle due Sicilie non era una serie con un obiettivo era la prima serie in live su Twitch me lo sono ricordato ora e questa è la seconda nel mio passato da streamer Twitch perché nel presente non sto trovando il tempo ho creato l'impero dei meme e guardate qua cosa avevo fatto l'impero dei meme era il Venezuela direttamente da qua avevo creato questo lollissimo impero e avevo anche dei vassalli mi pare che sono il Gabibbo l'Igure che ha però guadagnato anche l'illegittima zona di tutto il Medio Oriente sottratto la Turchia e anche Ciriland sei province dove è Speth no non c'è e anche Ciriland di sei province che sono tutte queste isole qua diciamo il progetto di isolandi alternativo ecco per il resto però quest'impero era davvero memosissimo anyway volete rivedere una serie live su Twitch commentate con scritto Twitch e lasciate tanti mi piace ovviamente vi ricordo il commento con più mi piace quindi sostenetevi l'un l'altro non scrivete 300 commenti perché ne andrò a prendere solo uno quindi coalizzatevi per la missione andiamo avanti dai questa serie non la tocco su Youtube non farò assolutamente nulla non merita di essere trattata male da me and welcome to this new serie called impero di Ciri the Great l'impero che aveva conquistato letteralmente il mondo scherzi a parte meme a parte tutto eravamo riusciti a creare aspettate chi è alleato l'impero di Ciri the Great con la Germania o la Germania è semplicemente questo colore no non è nostra alleata cioè non siamo alleati del come si chiama della Germania nell'impero di Ciri the Great senza esagerare in Europa che non abbiamo toccato praticamente a zero abbiamo ricreato l'impero di sua maestà la regina Elisabetta no aspettate mi dissocio cioè nel senso la regina Elisabetta lo ha finito di amministrare ma questo impero è molto più storico a parte comunque la regina Elisabetta quando ha registrato questa serie stava ancora benissima era vive vegeta quindi non c'entrava assolutamente nulla infatti sono stato io a riunire quest'impero in meno di un secolo che ne pensate vi piace? vi piacerebbe vedere un continuo in cui magari ci imponiamo anche sugli europei? commentate con impero di Ciri the Great per il resto l'unica curiosità che mi resta la sapete già ok anche qua ci sono popolazione reclutabile due milioni di persone pronte a combattere what? ma questo è sfruttamento delle masse sfruttamento a parte che noi non faremo perché siamo persone a modo completamente a modo popolazione reclutabile dov'è qua? oh popolazione reclutabile non stai banjul ah ok qua guardate possiamo mettere 10.755 truppe follia pura ma andiamo avanti andiamo avanti che di serie belle ce ne stanno ancora tante ed eccoci qua signori con l'impero latino l'impero che era riuscito a creare tutto ciò guardate eravamo riusciti a riunire tutti i paesi dell'impero romano d'occidente mentre nel resto del mondo non è successo nulla poi beh che dire una piccola quisquiglia chiamata tutto il resto del continente sudamericano fino al messico insomma questa è una sorta di panamerica che ci ha creduto di più prendendo anche delle isole importanti come cuba e abbiamo creato l'insieme di tutti i popoli latini vediamo di come sempre al solito popolazione reclutabile dove si va benissimo acquito ho detto anch'icchito ma chitte se ingula perché si recluta comunque male anyway questa serie volete vederla in pero latino sotto nei commenti lasciateli e lasciate un bel mi piace mi raccomando perché una di queste serie la vorrei continuare andiamo avanti dai andiamo avanti siete pronti a farvi partire gli occhi non so neanche come tutto ciò sia possibile perché davvero è signori la confederazione polacco-lituana non me ne ero mai accorta a 12.000 truppe ragazzi questa è l'altra serie che non avete ancora visto ce ne avete ancora visto avete visto ma è finita quella in cui ha vinto la seconda guerra degli iscritti governata da solo pochi paesi otto paesi ovvero i bot il regno del pnb e pricks il regno socialista che letteralmente è rimasto pomodoro rosso un'altra volta col suo regno britannico bot 15 bot ulna regno dei pnb così a caso il bot solenoide ancora me lo ricordo e pricks qua che dovrebbe essere pure un bot però essendo il creatore della serie meritava di vivere ancora come nella prima guerra degli iscritti ci andiamo a simulare un po' di turni e vediamo se per sbaglio ci crepa qualcuno diciamo ne dubito altamente perché sono rimasti soltanto 8 e di questi 8 5 sono qua e 1 è qua scusate 6 sono qua 1 2 3 4 5 6 7 8 ok qua c'è anche il bot tnt dubito che questi 8 si possano scannare a vicenda a meno che la confederazione polacco-lituana non decide di distruggerli tutti però davvero hanno degli eserciti mostruosi cioè guardate qua quante unità hanno cioè fa impressione pensate che un impero piccolo come quello di pricks ne ha 31.000 questi ne hanno 120.000 cioè anche i vassalli stessi sono messi bene cioè non vi credete tranne questo vabbè che è circondato soltanto per essere mangiato molto a breve per il resto aspettate ragazzi è morto qualcuno no 1 2 3 4 5 no non è morto nessuno semplicemente guardando i puntini verdi ogni tanto poi capita che ti confondi ma nessuno in questa serie credo potrà morire ulteriormente non ho fatto 20.000 turni però comunque li ho fatti un bel po' arrivati qua il gioco si è salvato da solo passiamo alla prossima serie tanto la guerra degli iscritti sta per tornare quindi non serve commentare prima dell'avvento di randomia questa fu la serie più veloce del mondo l'unione nordica l'unione che aveva conquistato un sacco di territori ma non troppissimi fregando il posto di prima potenza mondiale a tutti in due soli video siamo riusciti a riunire tutti i vichinghi partendo mi pare dalla Danimarca non vorrei sbagliarmi e abbiamo creato questa bestia qua diciamo la serie è molto autoesplicativa quindi se volete vedere un continuo di questa serie mentre l'Italia ha perso Torino come farò a vedermi la Juventus non lo so però se volete un continuo di questa serie commentate con unione nordica così Lars Locke Rasmussen questo tizione qua sarà molto felice per voi giungiamo ad una serie più nuova ovvero il sacro impero giapponese 444 province di pura perfezione che si espandono in tutta la Cina che avevamo conquistato con successo più tutto il resto dell'impero coloniale bestiale che eravamo riusciti a fare seppur escludiamo magari territori piccoli che non avevo forse considerato come il Brunei sapete cosa il Brunei ce lo prendiamo adesso in modo così Brunei non accetta vabbè se qua si recluta un minimo ma no dai lasciamo stare questi amichetti il reclutamento è buono ma non buonissimo perché del resto la serie è venuta anche parecchio lunga è un impero molto stabile e longevo che mi piaceva tanto se volete vedere commentate con sacro impero giapponese che andiamo ad ampliare i nostri possedimenti magari unendo questi territori di qua e tutte le isole che mancano da qua andiamo avanti così andiamo al prossimo impero e non abbiamo tempo da perdere qua ragazzi questa è una serie molto divertente perché effettivamente credo sia l'unica serie che siamo riusciti a concludere diventando gli unici padroni del mondo cioè guardate qua non c'è nessun altro oltre noi infatti mi dice sempre vittoria ancora un altro turno lo prometto anzi modalità spettatore vediamo da dove siamo partiti aspetta che è successo niente di che se io andassi in modalità spettatore perché qua non c'è molto da fare ma non mi fa rendere più ah forse non la posso neanche più giocare meno male che non ho salvato ragazzi in pratica questa serie ho conquistato tutto il mondo e quindi non c'è nient'altro da fare semplicemente siamo semplicemente stati OP siamo nel 2304 e quindi nessuna nazione è riuscita a resisterci ed ecco qua la sua variante ovvero l'impero neottomano che ha conquistato di nuovo tutto il mondo ancora un altro turno lo prometto e siamo punti a capo abbiamo preso il mondo anche con l'impero neottomano nella stessa identica modalità di prima non ricordavo neanche di aver fatto questa serie perciò davvero wow sono sorpreso da me stesso se volete vedere questa serie commentate con l'impero neottomano se non l'avete già fatto nello scorso video andiamo avanti dai e invece no ragazzi colpo di scena riguardandomi un attimino le cose mi sono accorto che questa serie e quella dell'impero romano vengono dal mondo alternativo futuristico ecco perché sono così avanti negli anni quindi se volete vedere una serie nel mondo alternativo futuristico un'altra serie commentate con mondo alternativo futuristico che ve lo portiamo occhio perché è un bel progetto e ne stravale la pena non sottovalutatelo e stesso discorso vale ovviamente per lo stato pontificio che perché è tornato qua what ma in che senso spero non l'avevamo già fatta questa ah vabbè ragazzi mi ero dimenticato il mondo alternativo futuristico di tempo fa quello che si è leggermente voluto verso zone del mondo questo mondo che cerca un po' di recuperare di colonizzarsi un minimo ecco questo è il secondo mondo alternativo futuristico diciamo la versione 2.0 ma il commento vale quello di prima quindi commentate allo stesso modo signori andiamo alle serie dell'era moderna questo lebesbram è davvero molto particolare un po' meno storico del primo lo ammetto 2.295 perché credo sia un record totale il motivo per cui questa serie è bella perché l'abbiamo creata con la magia la magia la magia di Steiner questa serie nasce dalla magia di Steiner ovvero di un uomo che da 10.000 truppe riuscì a conquistare il mondo non dico altro andatevela a vedere perché questa sicuramente è nella top 3 serie più belle del canale continuarla non so se si può voi intanto lasciate un commentino però la eleggerei quasi per non dire quasi sicuramente serie migliore del canale forse anche più dell'Ebersbram perché abbiamo combattuto soli contro tutti ed è stato una leggenda assurda andiamo avanti e andiamo alla prossima serie mancano sette serie alla fine abbiamo ricreato l'impero romano ma perché si chiama impero azteco ah già che sbadato perché gli aztechi avevano letteralmente colonizzato prima loro stessi poi i popoli vicini e poi l'impero romano perché si per il meme ecco e quindi se volete magari un'espansione continentale totale dell'impero azteco potremmo farlo diventare forse l'impero più potente della storia della serie commentate con impero azteco dai dai che ne stravale la pena e vi consiglio anche di passare dal server discord perché queste serie vengono proprio da discord quindi datemi voi input altri per altre serie andiamo avanti vi informo già che mancano le ultime sei serie questa è l'unione ciri sovietica si commenta da sola una certa persona che mi segue nei commenti credo la adorerà però si con questa serie eravamo riusciti a fare di tutto pensate avevamo preso tutti i popoli slavi e anche di più cioè siamo arrivati al confine con la Francia l'Italia e basta considerando gli stati moderni perché poi ora che è Spagna non ci fate comunque caso e avevamo anche preso territori in Palestina così a caso perché si unione ciri sovietica volete vederla commentate così unione ciri sovietica andiamo avanti quinta ultima serie che non vedete cos'altro è successo ed è meglio così questa è la cosa Slavia la serie che ci ha permesso di riunire tutto partendo dal dal Kosovo dal Kosovo siamo riusciti a creare la Jugoslavia ma come l'abbiamo creata in un modo epico che dovete necessariamente andare a vedere perché stramerita stramerita e stramerita quindi andiamo avanti però questa serie è stata bellissima vi consiglio di andarvela a rivedere perché ci sono dei colpi di scena mozzafiato e commentate con Kosovo se volete vederne ancora tocca un altro progetto ambiziosissimo Panamerica l'unione delle Americhe sotto un solo nome sotto un solo imperatore me ovviamente abbiamo unito le Americhe col Panama ma come lo abbiamo fatto con calma dedizione e un esercito riunito tutto a Siracusa 201 mila nove truppe popolazione reclutabile siamo messi male ma Kito è sempre la prima città ho visto di meglio il record resta sempre 13.000 e nessuno lo batterà mai andiamo avanti che le serie stanno per terminare commentate con Panamerica se volete magari un'invasione di altri stati giungiamo a una serie che è stata effettivamente vinta infatti si chiama Ciri o Lè come una pasta che ho mangiato ma come effettivamente la vittoria del regno di Ciri o Lè perché semplicemente abbiamo vinto noi in questo scenario non c'era nessun altro ci siamo solo noi in tutto il gioco e niente quindi Ciri o Lè sovrano del regno impero delle tre dinastie cinesi qui non possiamo fare altro perché le serie di randomia non richiedono un continuo ora andremo a vedere anche la seconda randomia che effettivamente è la serie che è appena finita se però volete vedere una terza stagione di randomia fate un commento perché se dovesse vincere randomia sarà la serie vincitrice andiamo avanti parli del diavolo e spuntano le corna il canato ciran la serie appena terminata il presente del canale l'assoluto presente del canale guardate che bestione ragazzi che abbiamo creato non vi dico come ma l'abbiamo creato da un regno debole insignificante di quelli che conquisteresti in tre turni andate alla rivedere perché sono successe cose folli soprattutto la guerra finale è folle quindi vi consiglio di farvi questo tuffo nel passato e questo per quanto riguarda randomia e due bene ragazzi abbiamo finito il video finisce qua e volevate ne manca ancora una chissà quale c'era una volta una città una città che un giorno si fece un compagno di squadra pian piano però decisero di colonizzare qualche isoletta qualche isoletta ho detto ho detto qualche isoletta non tutte le isole signori l'ultima serie che vi mostro è Isolandia la serie che io personalmente al pari dell'impero romano fatto con l'impero bizantino e della magia di Steiner colloco sul podio eterno penso spero di questo canale Isolandia è una serie leggendaria che potremmo continuare invadendo ancora qualche territorio di isola che mi sono dimenticato ma anche nemici potenti per fargliela pagare arriviamo a un sacco di mi piace con il commento Isolandia e tutto ciò sarà realtà bene ragazzi questa maratona di quasi un'ora anzi per me che ho registrato e fatto le pause è più di un'ora di registrazione continua per questo tuffo nel passato ricordatevi di commentare anche lo scorso video con la serie che vi è piaciuta di più perché il commento migliore della prima serie del primo video e il secondo video quindi la seconda serie che verrà eletta si battaglieranno in un sondagione definitivo che però avrà un solo vincitore e quel vincitore sarà appunto colui che comparirà come prossima serie del canale e va bene ragazzi allora anche questo video finisce qui mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità in nome anche di Isolandia lasciate tanti mi piace passate dal server discord dal canale twitch e dal canale di Giuseppe Novelli autore della copertina di tutti i video che vedete sul canale dal 1950 in poi detto ciò è davvero tutto noi ci vediamo con un prossimo video